Ciao a tutti, oggi parliamo di comida e a me piace un casino fare questi video, parlare di queste cose. Ma non vi parlerò di una ricetta particolare brasiliana. Nel video di oggi andremo a vedere insieme alcuni piatti tipici brasiliani, e lo sottolineo, tipici brasiliani, che però dal nome sembrano tutta un'altra cosa. Qui in Brasile hanno questa abitudine, più che altro appunto nelle questioni di ricette, di piatti, di comida, di dare un nome straniero a un piatto tipico creato in Brasile. Non lo so se per dargli un tono particolare, per rendere il piatto più chic, più interessante, però veramente ci sono tantissimi piatti originali brasiliani, che però hanno un nome che in qualche modo riporta ad altri paesi e ad altre nazioni. Quindi senza perdere troppo tempo, perché le cose da dire tutto sommato sono tante, andiamo a vedere di cosa sto parlando. Iniziamo dalle cose più classiche, ad esempio la linguissa toscana. Che cos'è la linguissa toscana? Non è nient'altro che la nostra salsiccia, né più né meno. Ora però la domanda che io mi pongo, perché chiamarla toscana? Sinceramente è una di quelle cose che non sono riuscito a trovare una spiegazione, nessuno ha saputo dirmi per quale motivo proprio l'hanno chiamata toscana, e non ligure, non lombardo, di quello che vuoi. Forse perché la salsiccia è un prodotto tipico della toscana? No, non mi sembra. Forse perché furono i primi immigrati dalla toscana che vennero in Brasile a creare questa salsiccia? No, sinceramente anche questa è una cosa che non credo. Quindi non c'è veramente un vero motivo, per meno che io sappia, per cui gli abbiano proprio dato questo nominativo, linguissa toscana. Ed è strano perché per tutte le altre cose che vedremo in questo video, c'è una spiegazione, però di questa linguissa toscana niente, non ho trovato niente. Quindi a questo proposito, se qualcuno di voi sa dirmi per quale motivo proprio l'hanno definita toscana, per favore me lo scriva qui nei vari commenti qui in basso, perché a questo punto io sono proprio molto curioso. Altra linguissa, questa volta parliamo della linguissa calabresa. Allora, per linguissa qui in Brasile si intende più che altro una specie di insaccato simile alla salsiccia. Però la linguissa calabresa, a mio parere, sembra più un salame che una salsiccia. E qui torniamo alla soletta domanda, per quale motivo calabresa? Beh, mi verrebbe spontaneo pensare che il nome possa derivare dal fatto che la linguissa calabresa è una salsiccia o un salame, chiamatelo come volete, piuttosto piccante. E quindi potrebbe essere che qualche immigrato calabrese venuto qua in Brasile abbia cercato di riproporre, di riprodurre, di rifare appunto il classico, il famoso salame piccante calabrese. Però la verità invece è molto più semplice. Tra gli ingredienti appunto con cui viene fatta la linguissa calabresa c'è quello che qui chiamano pimenta calabresa, che non è nient'altro che il peperoncino rosso. Quindi da pimenta calabresa diventa la linguissa calabresa. E ora invece proprio il classico dei classici, il pain francese, cioè il pane francese. Il pane francese non è nient'altro che il pane comune che c'è in Italia in tutte le panetterie. Ma perché chiamarlo francese? Beh, qui le teorie diciamo sono diverse. Allora, da quanto ho visto, il pan francese è nato proprio a Rio de Janeiro durante il periodo coloniale. Quando appunto l'imperatore portoghese Giovanni VI, che sembra più un nome di un papa, però era il nome di questo imperatore portoghese, venne appunto in Brasile con tutta la sua corte. E proprio in quel periodo appunto l'imperatore e la sua corte importarono la farina bianca. Una cosa che era poco conosciuta qui in Brasile. Perché a quel tempo il pane si faceva più che altro con la farina di mangioca o con la farina di mais. Quindi diventava un pane o piuttosto duro o piuttosto scuro. Quindi per questo motivo c'è chi pensa che il nome pan francese derivi appunto dal fatto che i brasiliani in qualche modo si incantavano davanti a quel pane così bianco. Altri invece pensano che il nome derivi dal fatto che i panettieri della corte appunto di Giovanni VI, di questo imperatore portoghese, erano guarda caso francesi. Ma la versione diciamo più accreditata è che proprio in quel periodo la Francia era la più grande produttrice proprio di farina bianca, la farina che si usa per fare comunemente il pane. E in molte altre parti del mondo questa farina era conosciuta come farina francese. Da qui appunto il nome pan francese. Ed essendo in Brasile non possiamo certamente non parlare del riso. Ad esempio c'è un piatto che qui si chiama arroz di Braga, quindi riso di Braga. Ma perché di Braga? Perché è originario di Braga, della città di Portogallo? No, vi assicuro che a Braga questo tipo di piatto non esiste proprio. La rossa di Braga in definitiva è nata nella città di Santos, qui nello stato di San Paolo. E qui c'è una storia un pochino curiosa. Se ricordo bene è simile a mio parere alla torta caprese che c'è in Italia, però non vorrei dire stupidate. Allora nella città di Santos c'era un piccolo ristorante e il proprietario era conosciuto come Seu Braga. Non si sa ancora se fosse brasiliano-portoghese. Molti presumono che fosse brasiliano. E quindi cos'è successo? Un giorno a tarda notte arrivarono proprio nel suo piccolo ristorante un gruppo di persone molto affamate. Il proprietario, questo Seu Braga, ha dispiacere e gli ha detto a queste persone ragazzi guardate che purtroppo a quest'ora la cucina è praticamente chiusa, non ha quasi più niente quindi non ho modo di farvi da mangiare. Però queste persone qui hanno insistito un attimino, hanno insistito un po', hanno detto per l'amor di Dio facci qualunque cosa perché stiamo morendo di fame. Quindi questo Seu Braga, questo proprietario di questo ristorante, ha preso le cose che ha trovato come dire in frigo nella cucina e appunto ha creato questo famoso piatto, questo arroz di Braga che ve lo posso dire è anche molto buono perché è un riso bianco però con dentro pezzi di pollo, salsiccia e anche un bel po' di verdure. Quindi se vi capita ve lo consiglio di mangiarlo. Altro riso questa volta è arroz a greca. Quindi riso alla greca. Perché alla greca? Perché viene fatto in Grecia? Perché è un piatto tipico della Grecia? No, assolutamente no. Allora, in poche parole, la cucina greca, essendo una cucina mediterranea come noi sappiamo, è a base appunto di varie spezie, di olio d'oliva e di molte verdure che danno alla fine a qualunque piatto un bel colore, un bel aspetto. E quindi cosa succede? Qui in Brasile molte ricette vengono come dire rifatte o riproposte con i prodotti che uno trova, con le cose che uno trova normalmente nel frigo. Quindi l'arroz a greca, quindi il riso alla greca è sempre un riso bianco simile all'arroz di Braga. Infatti ci sono anche lì verdure, tra cui piselli, peperoni, carote, fagiolini e uva passa, mi raccomando. Quindi anche questo a mio parere è un piatto molto buono, solo che appunto con tutti questi bei colori ricorda in qualche modo appunto la cucina mediterranea che c'è in Grecia. E sempre parlando di riso non poteva mancare l'arroz a piemontese. E ve lo sta dicendo uno che è piemontese. Allora che cos'è la roccia piemontese? Non è nient'altro che un tentativo di riproporre, di rifare il tipico risotto italiano. Solo che cosa succede? Siccome fare un risotto fatto bene non è così semplice come molti pensano, per poter ricreare la cremosità del risotto tipico italiano, i brasiliani cosa hanno fatto? Hanno aggiunto, o meglio aggiungono della panna e dei funghi champignon tagliato e pezzetti nel riso appunto per poter ricreare, dargli una forma, un aspetto del tipico risotto italiano. E parliamo ora di dolci, ah che belle cose i dolci, ma chi ha inventato i dolci? C'è da fargli un monumento, io vado matto per i dolci. Allora partiamo dalla torta olandesa. Che vuol dire? Torta olandesa, quindi vuol dire che è una torta tipica dell'Olanda. No, assolutamente no. Questo è un altro piatto che io vi consiglio, la torta olandesa è veramente buona. Guardate che io sui dolci brasiliani sono molto rigido, però questa veramente ve la consiglio. È una torta in poche parole a base di biscotti, latte condensato, panna e anche una specie di ganache, una specie di copertura di cioccolato sopra. Molto buona, lo ripeto. Però come ho detto non c'entra niente con l'Olanda, o meglio, non è certamente una torta tipica olandese. Questo dolce è stato creato nel 1990 dalla cuoca brasiliana Silvia Maria do Espirito Santo e nacque praticamente, oserei dire, qui vicino, nella città di Campina, sempre nello stato di San Paolo. Allora qui la storia è appunto un po' particolare. Questa benedetta Silvia nel 1989 subì un incidente in Inghilterra, perché stava là in Inghilterra per i fatti suoi. E per di più, proprio in quel periodo, perse anche il fidanzato, si lasciò con il fidanzato. E quindi tra aver fatto un incidente, tra aver perso il suo fidanzato, presumo, non lo so, il fidanzato inglese, questa povera Silvia alla fine ha subito, come dire, delle conseguenze, sia fisiche che demotive. E quindi è rimasta per circa un anno sempre lì in Inghilterra. E sempre lì in quel periodo, nel 1989, lavorò come governante presso una famiglia di olandesi. E qui già cominciamo a capire qualcosa. Un anno dopo, però nel 1990, appunto questa Silvia ritornò in Brasile e tornò a lavorare nel suo piccolo caffè che aveva proprio nel centro di Campinas. Cosa successe? Un giorno una sua amica la invitò nella sua casa e le offrì un dolce a base di biscotti e di creme varie. A questa Silvia piacque tantissimo questo dolce, non l'aveva proprio mai mangiato. E siccome appunto lei aveva un bar nel centro di Campinas, ebbe appunto l'idea di prendere questa ricetta che le aveva proposto, che le aveva offerto questa sua amica di questo dolce appunto a base di biscotti e creme, la modificò ulteriormente per renderla più bella, più buona, più leggera e la propose appunto ai clienti del suo bar che aveva lì a Campinas. Ebbe un grandissimo successo questa torta e quindi la Silvia batteggiò appunto questo dolce che lei in qualche modo aveva reinventato, in onore appunto delle persone con cui aveva lavorato quando era in Inghilterra, in onore a quella famiglia di olandesi con cui appunto aveva lavorato. Da qui torta olandese. Rimaniamo sui dolci, va ancora di torte, questa volta la torta Alemà, e cioè la torta tedesca. Anche qui, per quale motivo tedesca? Perché è un prodotto, è una torta meglio che si fa, si produce, si crea solamente in Germania? Beh, allora sì e no, qui non ci sono delle notizie, informazioni sicure come per esempio la torta olandese. Però si sa appunto che questa torta Alemà, questa torta tedesca è di origine brasiliana, nel senso che è stata creata qui in Brasile. Anche questa torta è sempre a base di biscotti e creme e sembra, ma non è sicuro, sembra che sia stata creata da un'immigrante, da una discendente, per meglio dire, di immigrati tedeschi, adattando appunto un dolce tipico, una torta tipica tedesca, usando però ingredienti tipici del Brasile e cercando appunto di ricreare questa torta per togliersi appunto quello che qui chiamano la saudage, cioè la nostalgia del paese di origine. Andiamo avanti, allora parliamo della paletta messicana. La paletta messicana è praticamente un gelato, un banalissimo gelato di frutta, ripieno però, come dire, di crema in qualche modo. Ora perché l'ho inserito qui? Perché ok, la paletta messicana in teoria esiste in Messico, solo che lì è completamente diversa. La paletta messicana, proprio quella originale, viene fatta più che altro con la frutta ed è una cosa molto più semplice. Qui invece, come sempre, i brasiliani amano esagerare, amano creare delle cose in più e quindi hanno cercato di riprodurre questa paletta messicana, questo gelato di frutta, però aggiungendo, secondo loro era un'idea migliore, aggiungendo appunto all'interno una specie di crema per rendere questo gelato più appetitoso. Ha avuto successo alcuni anni fa, quando c'è stato il boom, adesso è calato molto, però si trova ancora in alcune gelaterie. Ora invece parliamo dei Beirutti, Beirutti, ok, Beirutto io lo direi. Che cos'è? Beh, come si vede dalla foto, è un bel panino, bello ripieno, molto buono. E perché si chiama Beirutti? Beirutti, chiamatelo come volete. Perché è un prodotto, è un panino che si mangia comunemente in Libano? No, assolutamente no. Si chiama così perché viene fatto con quello che qui chiamano pan sirio, cioè pane sirio, sarebbe il pane arabo. Se avete fame, un'altra di quelle cose che vi consiglio, piuttosto che andare dal McDonald's, prendete, quando lo trovate, un panino di questi, bello ripieno di carne, di prosciutto, di verdure, tutto quello che potete immaginare. Una bella birretta fresca e vi assicuro il pranzo già lì è assicurato. Quindi ritorniamo, si chiama Beirutti, Beirutti, per quale motivo? Perché si usa questo pane che in teoria è originario del Libano. E ritorniamo a parlare di dolci. E questa volta proprio un classico dei dolci brasiliani, cioè il sogno. Buonissimo. Io che amo i dolci lo trovo buonissimo. Che cos'è il sogno? Beh, allora, in teoria possiamo dire che il sogno sarebbe il nostro kraften. Dico in teoria perché alla fine non è affatto vero. A mio parere assomiglia molto di più a un maritozzo che è un kraften. La differenza più che altro qual è? Che nel maritozzo di solito, anzi quasi sempre, si usa la panna montata. Qui nel sogno o in questi kraften si usa invece la crema pasticcera. Quindi non sono nient'altro, possiamo dire, una specie di panino dolce tagliato a metà, appunto ripieno di crema pasticcera. Sappiamo benissimo che i veri kraften sono fatti diversamente, hanno una forma diversa, non sono tagliati a metà, vengono fatti anche con la fecola di patate. In Germania addirittura non usano la crema pasticcera ma sono ripieni di marmellata. Quindi sogno e kraften, a mio parere, sono proprio due cose completamente diverse. Però in qualche modo si assomigliano o, come ho detto, in qualche modo assomigliano più a dei maritozzi però con la crema pasticcera. Ora invece parliamo di pasta e cioè dei rondelli. Allora io sono sicuro, se dovesse chiedere a qualunque di voi italiano se avete già mangiato dei rondelli sicuramente mi direte no Franco, non mai visti, mai mangiati, mai assaggiati. Perché? Perché non esistono. Per l'amor di Dio, a me sembra vagamente, se ricordo bene, che in Emilia facciano qualcosa di simile. Ma non sono molto sicuro. Cosa sono i rondelli? Beh, non è nient'altro che della pasta all'uovo, ripiena però di solito di prosciutto e mozzarella che dopo viene cotta al forno tipo una pasta al forno, tipo le lasagne, giusto per darvi un'idea. Solo che appunto viene fatto questo rotolo di pasta all'uovo, ripieno, dopo viene tagliato appunto a rondelle, da qui il nome, e dopo viene cotto nel forno. Quindi è una cosa buona? Sì, è una cosa buona. Peccato che i brasiliani pensano che sia un piatto tipico italiano, mentre invece non lo è. Altro piatto che secondo i brasiliani è proprio italiano, ma non lo è nemmeno lontanamente, o meglio un po' gli assomiglia. Adesso andiamo a vedere. E sto parlando della fogazza. Io mi ricordo, non so se in un video che avevo fatto precedentemente, o addirittura nel blog, quando avevo detto che la fogazza non è un piatto italiano, ho trovato molti brasiliani che si sono incazzati con me dicendo, no Franco, che cavolo stai dicendo? E la fogazza è italiana. Ho detto, guardate che non c'è, non esiste. Però sapete, sono decoccio i brasiliani, quindi non lo vogliono capire. Ma lasciamo perdere. Allora, che cos'è la fogazza? Beh, a vederlo sembrano praticamente i pancerotti pugliesi. La forma è più o meno quella. Oppure, un po' lontanamente, potrebbe anche assomigliare ad un calzone fritto. Ok. Però cosa succede? Qual è la grande differenza? Beh, più che altro, a parte la forma, a parte quello che volete, a parte gli ingredienti, è la pasta con cui viene fatta. Nel calzone e nei pancerotti si usa, possiamo dire, la pasta simile a quella del pane, simile a quella della pizza. Qui invece fanno una cosa un po' mista, mettono farina con patate, insomma viene fuori una cosa un po' molliccia, un po' strana. E di solito sempre la fogazza, beh, ripeto, perché assomiglia anche ai pancerotti e anche per quello è ripiena con prosciutto, formaggio e anche un po' di sugo, di polpa, di pomodoro. Però, allora, anche qui c'è tutta una storia. Sembra appunto che questa benedetta fogazza sia stata inventata nel 1977 da una figlia di italiani che si chiamava, guarda caso, Ida Pugliese. Quindi questa benedetta Ida ha cercato di rifare, di riprodurre, io penso a questo punto, i pancerotti pugliesi che cucinava forse sua madre. Solo a che punto ha usato un procedimento diverso, gli ingredienti diversi, però in ogni caso questi pancerotti brasiliani, questa fogazza ha avuto molto successo e quindi da lì questa benedetta Ida ha cominciato a venderli e a farli conoscere praticamente a tutto il Brasile. Ora invece parliamo di una cosa che mi fa quasi un po' ridere, cioè del gelato napolitano. Allora, sempre sulla domanda, per quale motivo napolitano? Perché, allora, il gelato napolitano che cos'è? È un gelato praticamente al cioccolato, alla crema e alla fragola. Quindi sono tre sapori che a mio parere non hanno nulla a che vedere con Napoli, però da quanto si è capito è stato chiamato così appunto gelato napolitano verso la fine del XIX secolo, dove appunto molti immigrati venuti da Napoli in qualche modo hanno portato le loro conoscenze sul gelato sia in Brasile che anche nelle altre parti del mondo. Ora invece parliamo della sardella. La sardella è praticamente un prodotto tipico della Calabria, precisamente del comune di Crucoli, nella provincia di Crotone. E poi da lì questa benedetta sardella si diffuse in tutta la Calabria, specialmente nella provincia di Catanzaro, dove proprio da lì vennero i primi immigrati, i primi discendenti dalla Calabria qui in Brasile. Allora la sardella originale fatta in Calabria prevede come ingredienti il bianchetto, il peperoncino, il finocchietto selvatico e il sale. La sardella brasiliana assomiglia molto a quella originale calabrese, solo che qui viene fatta con alici, peperoncino, pomodoro, aglio, pepe e olio d'oliva. Torniamo sui dolci. Altro dolce che troverete in tutte le case brasiliane, possiamo dire, è il pavé. Che cos'è il pavé? Beh, allora, in teoria il pavé è un dolce che a me piace molto. È un dolce a base di biscotti e crema, astrati. Ok. Possiamo dire che il tiramisù sia un pavé? Sì. Ok, perché il tiramisù è appunto un dolce a base di crema e biscotti, sempre astrati. Quindi qualunque dolce fatto in questo modo, in Brasile è chiamato di pavé. Però c'è una grande differenza. Prima di tutto, qui in Brasile si usano il 99,99% delle volte i biscotti secchi. Mentre in Italia, per fare il tiramisù o anche altri dolci, si usano altri tipi di biscotti a seconda del dolce che devo fare. E poi, più che altro, cambiano il tipo di creme. Cioè, adesso non vuole essere una critica, per l'amor di Dio. Però il tiramisù, perché è buono? Perché c'è un ottimo equilibrio tra dolce e amaro. Quindi c'è il mascarpone che non è troppo dolce, c'è il caffè che non è zuccherato, c'è la spolverata di cacao non zuccherato, quindi riesce a bilanciare le cose molto bene. Qui in Brasile ovviamente questa concezione sembra che non esista. Quindi qui i dolci sono estremamente dolci. Il 99% delle, no, non 99, a mio parere, il 100% delle creme che fanno per i dolci è a base di latte condensato. Se devono bagnare un biscotto usano acqua e zucchero o latte e zucchero. Quindi, ok, il pavè è un dolce che è buono, o meglio, potrebbe essere buono se fosse fatto con la testa di un europeo, o perlomeno che non fosse fatto da un brasiliano, perché, torno a dire, è un problema dei brasiliani che loro esagerano tantissimo in tutto. Però in ogni caso è un dolce buono quando capita l'occasione. Io che amo i dolci lo mangio volentieri. Poi altra cosa, allora la pancheca, molto buona anche questa. Che cos'è la pancheca? Beh, allora qui in Brasile per pancheca si intendono, oserei dire, tre cose diverse. Una pancheca potrebbe essere i cannelloni, le crespelle o le crepe, che sono tre cose simili, però allo stesso tempo completamente diverse. Prima di tutto i cannelloni, da quanto io ne sappia, non sono fatti con le crepe, ma vengono fatti appunto con la pasta all'uovo, simile a quella delle lasagne. Qui invece fanno le crepe, le abborgano tipo un cannellone e va bene così. Già però le crespelle, le crepe, diciamo che sono molto simili alle pancheca che fanno qui in Brasile. Sempre parlando di esagerazione, un'altra cosa che troverete facilmente in ogni padaria, quindi in ogni panetteria, in ogni pasticceria che c'è qua in Brasile, è quella che loro chiamano la bomba di cioccolati. Che cos'è? Beh, praticamente è quello che per noi è l'eclare, quindi quella specie di bignè allungato. Ora qual è il problema dell'eclare brasiliano, di questa bomba di cioccolati? è ripieno, perché se in Italia lo fai ripieno di crema pasticcera, di panna o di altre cose, qui lo trovate sempre o con una specie di crema al cioccolato molto naseante, oppure con altre creme sempre estremamente dolci. Quindi credetemi, io che amo i dolci, che amo i bignè, amo le creme, amo tutte queste cose, faccio realmente fatica a mangiarmi una bomba di cioccolati, cioè mangiarmi un'eclare, cosa che in Italia le mangerei uno dietro l'altro. E parliamo invece ora delle strogonofi. Allora, la carne allo strogonofi, c'è da dire che qui in Brasile la trovate, come dire, in due versioni. Quella fatta con carne di manzo e quella invece con il petto di pollo. Di solito il 99% di quella che trovate sia nelle varie case o anche in giro è fatta appunto con il petto di pollo, penso per questioni economiche. Allora, la carne allo strogonofo, o strogonofo, chiamatelo come volete, è come tutti noi sappiamo un piatto russo, che però si è diffuso in ogni caso in tutto il mondo, tra cui anche qua in Brasile. Anche qui sull'origine proprio reale, vera, dello strogonofo non si sa ancora esattamente, però la versione più accreditata è quella di essere appunto una creazione di un cuoco francese che lavorava per una famiglia russa chiamata stroganofo, oppure secondo altri strogonof. E la teoria dice che questo piatto è nato dal fatto che il conte Grigoris strogonof aveva, avesse, per meglio dire, dei problemi dentali e quindi questo chef francese in qualche modo ha deciso di adattare un piatto tipico francese, cioè la fricassée di manzo, tagliando appunto la carne in piccole strisce e aggiungendo della panna per facilitare in qualche modo l'ingestione del cibo. A quel tempo la carne allo strogonofo era solamente passata leggermente nella farina, a cui si aggiungeva della senape, un po' di brodo e un poco di panna, e di solito questo piatto veniva servito con la purée di patate. Qui in Brasile, oltre a cambiare il tipo di carne, lo strogonofo, o carne allo strogonofo, viene fatta tra le altre cose con panna, funghi champignon, ketchup, senape, salsa di pomodoro e alcuni ci aggiungono anche un po' di brodo. E poi altra differenza, qui la carne allo strogonofo viene sempre servita con riso bianco e non si sa per quale motivo con la famosa patata e paglia, e cioè quelle patatine a fiammifero. Torniamo in Italia e parliamo questa volta della paglia italiana. Questo è un altro piatto che i brasiliani siano convinti al 100% che sia un piatto, una cosa tipica dell'Italia e non c'è modo di fargli capire che non è esattamente così. Allora, che cos'è la paglia italiana? È sempre un dolce a base di biscotti secchi, latte condensato e, in poche parole, cioccolato in polvere. Non si sa chi l'abbia creata questa maledetta o benedetta paglia italiana. Si sa che in qualche modo hanno voluto ricreare, riprodurre il nostro salame di cioccolato. Però, a mio parere, sono due cose completamente diverse, sia per la forma ovviamente e poi anche dal sapore. Però diciamo che lo scopo era quello. E perché chiamarla paglia? Beh, anche qui ci vuole un po' di fantasia, eh? Perché i biscotti secchi messi in quella maniera che vengono appunto mescolati con il cioccolato, avendo quel colore dorato giallino, assomiglia in qualche modo alla paglia, al fieno. Ok? Da qui il nome, paglia italiana. Ve l'ho detto, ci vuole un po' di fantasia. Ora parliamo invece di una cosa che tutto sommato a me piace molto. Il problema è riuscire a trovare queste cose fatte bene, che non è semplice, ve lo assicuro. E sto parlando dei pastel. Il pastel che cos'è? Beh, in pratica è una specie di, non so nemmeno come definirlo, una specie di involtino, ripieno di solito di carne o di altre cose, fritto nell'olio. Quindi è una cosa veramente molto buona. Se non l'avete mai mangiato, se capitate in Brasile, mangiatelo, è che è buono. Il problema è riuscire a trovare qualcuno che lo faccia bene, perché molte volte o lo trovate con poco ripieno, quindi mangiate solamente, come dire, la pasta che la ricopre. Oppure è molto facile che lo facciano molto salato, però è buono. Specialmente con una birretta fresca o con un caldo di cana, ve lo assicuro vale la pena. E viene fatto appunto con una specie di pasta particolare. Non è la pasta per fare la pasta, non so se mi sono spiegato. Deve creare delle specie di bolle, ma è una cosa che vale la pena. E sembra che abbia però delle origini orientali. Quindi anche qui è dovuto all'affluenza degli immigrati, in questo caso cinesi, avvenuta nel XIX secolo, che in qualche modo hanno cercato di ricreare il voltino primavera. Questo era praticamente lo scopo originario del pastello. Solo che ovviamente l'hanno dovuto adattare secondo i gusti dei brasiliani. Per esempio appunto mettendo la carne macinata invece delle varie verdure, specie che si usano nel vero in voltino primavera. E tra le altre cose si dice che gli immigrati giapponesi, questa volta, quando vennero appunto in Brasile, temevano in qualche modo di avere una specie di pregiudizio nei loro confronti, a caso appunto del fatto che in qualche modo il Giappone combatte contro gli alleati durante la seconda guerra mondiale. Quindi questi immigrati giapponesi, così se ho letto, si passavano per cinesi e anche loro cercarono di riprodurre alcuni dei loro piatti, quindi alcuni anche di questi chiamiamoli involtini, rendendo appunto la produzione del pastel molto simile a quella che vediamo oggi. Parliamo ancora dei dolci e questa volta dei churros. Altro dolce, mi viene spontaneo dire tipico brasiliano perché qui lo trovate praticamente che lo vendono per le strade. Però invece le origini sono molto antiche. Alcuni dicono che furono i portoghesi quando tornarono dalla Cina al tempo della dinastia Ming, pensate un po'. Altri invece dicono che furono gli arabi a inventare i churros e lo portarono appunto quando invasero la penisola iberica. Altri ancora invece pensano che sia un prodotto inventato, creato dai pastori spagnoli perché la ricetta era facile da fare in montagna dove non potevano avere pane fresco e altri prodotti da forno. In ogni caso attualmente i churros è considerato un piatto tipico spagnolo. Viene preparato con un impasto a base di farina di frumento e acqua e dopo fritto nell'olio e spolverato di solito con zucchero e un poco di cannella. Qui in Brasile come sempre hanno voluto cambiare le cose, hanno voluto esagerare un attimino e quindi come ad esempio nel caso della paletta messicana anche qui i churros vengono fatti ripieni o con una specie di crema al cioccolato o con dolce di latte. E che ne so, vogliamo parlare anche dei croissant? Allora Franco ci sono croissant in Brasile? La risposta è sì, ci sono, ma non sono come quelli italiani. Qui i croissant sono sempre e solamente salati. Non esistono, giuro mai visti in vita mia in 13 anni che vivo qui, un croissant come quelli che trovate al bar in Italia. O che sia semplice, che sia ripieno di marmellata o di crema, non c'è, non esiste. Posso girare tutte le pasticcerie di Sorocaba, ma penso anche del Brasile, e non lo troverò mai. Troverò sempre i croissant salati, a base di formaggio, ripieni di prosciutto, quello che vuoi. Buoni? Se vi piacciono le cose salate, sì. Se come me amavate al mattino prendere un caffè con una brioche, quindi con un croissant, no. Ora a questo punto potrei anche parlare della pizza brasiliana, però qui è una cosa che abbiamo già parlato in diversi video, ne abbiamo già parlato in diverse occasioni. Sappiamo benissimo che la pizza in Brasile è completamente diversa da quella italiana. Non sto dicendo che non sia buona, dico che è diversa, ripeto, è una questione di gusti e anche di abitudini. Io ormai mi sono abituato, quindi sarà anche perché io amo, adoro la pizza, è una delle cose più buone che esistono. Quindi se mi dato una pizza brasiliana, cinese, ungherese o italiana, io la mangio in ogni caso. E poi c'è da dire che il segreto qui è scegliere la pizza giusta, perché torniamo sempre al solito punto, i brasiliani esagerano, quindi è vero che la pasta con cui è fatta la pizza è completamente diversa da quella italiana, però quello che la rende proprio diversa al 100% è il ripieno, sono gli ingredienti che vengono aggiunti, che qui ci mettono di tutto, le cose più inimmaginabili. Quindi basta scegliere le pizze, diciamo, più semplici, tra virgolette, e vi assicuro potrete mangiare una buona pizza. Poi è ovvio, anche qui in Brasile, come in Italia, dipende anche dalla pizzeria, perché, l'ho già detto, l'ho già spiegato, non è che in tutte le pizzerie d'Italia si mangia un'ottima pizza. Io ho mangiato delle porcherie in Italia che sono una cosa allucinante. Quindi anche qui dipende, trovate pizzerie dove fanno una buona pizza, trovate pizzerie che fanno cagare, si può dire su YouTube, ok, l'ho detto. Quindi dipende sempre da quello che voi prendete e da dove la prendete, ok? Bene, in questo video ho voluto parlare appunto di queste cose un po' particolari, che magari alcune persone non sanno, non conoscono. È un argomento che in qualche modo, e l'ho già parlato in passato, però ho voluto riproporlo adesso, un po' perché continuano ad arrivare, per fortuna, sempre nuova gente, nuovi iscritti, quindi magari non hanno né tempo né voglia, più che altro, di andare a vedere i video precedenti. Un po' perché sono cose che tutto sommato ho trovato, come dire, interessanti cose nuove, delle origini di alcuni piatti, e quindi l'ho trovato interessante riproporle in questo video. Quindi, torno a dire, non vuole certamente essere una critica alla cucina brasiliana, ai brasiliani, tutt'altro, io lo ripeto, in Brasile, grazie a Dio, si mangia bene, ed è inevitabile. Io, per esempio, italiano, che vivo in Brasile, pur essendo italiano, faccio, per fare un esempio, una carbonara diversa da quella che facevo in Italia. Per quale motivo? Perché qui non trovo gli stessi ingredienti che trovavo comunemente in Italia. Quindi è ovvio che molti piatti che in qualche modo i brasiliani hanno cercato di riprodurre, di imitare, siano diversi da quelli originali. Ma perché? Beh, un po' per colpa, mettiamo così, proprio loro, dei brasiliani che sono un po' strani. Un po' perché proprio non trovando i prodotti giusti, gli ingredienti giusti, in qualche modo, ragazzi, uno si deve adattare e deve improvvisare con quello che trova, ok? Quindi spero che anche questo video sia stato interessante, anche se è stato un pochino lungo, però sapete che di solito i miei video sono così. E quindi noi, come sempre, ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!